Un nuovo primato per i giochi di soci. Dopo i costi esagerati, ecco spuntare un numero record di profilattici distribuiti gratis ai quasi 3.000 atleti, 100.800 con una media di 35 testa, secondo fonte vicino al comitato di organizzazione. A Londra il safe sex fu assicurato da 150.000 profilattici, ma quelle erano olimpiade estive, con oltre 10.000 atleti, quindi nel rapporto vince la Russia. A promuovere l'iniziativa la AIDS Foundation. I concorrenti scherzano, alla reception non ci offrono caramelle, ma preservativi.